Uccidere e fare uccidere, parole forti, sembra il commento di un film sulla mafia, l'andrangheta, la camorra, le gang in Arcos o di guerra. Siamo a direggere un bollettino di guerra, uccidere e fare uccidere. Invece uccidere e fare uccidere domina un po' di cosa fa parte dell'alimentazione. Quanti ho incontrato che mi hanno detto ma gli animali mica li ammazzo io. Se tu non paghi, non ordini il pesce morto, mai fresco. Poi tra l'altro guarda che adesso ultimamente sono pesci d'allevamento. Allevamento, cioè mettono dei vasconi o dei recinti nel mare, che sono pesci acquasalati, che vengono alimentati con cibi non naturali, OGM, e prendono molte malattie stando in spazi limitati, non c'è più il mare aperto. Quindi chi mangia carne di animali da terra o animali che volano o animali che nuotano, fa uccidere. E' dura da accettare. Dice ma io non li ammazzo, io non li ammazzo. Allora Stalin, vai a ripassare la storia della seconda guerra mondiale, Stalin e Hitler si sono combattuti. ha vinto Stalin perché era alleato anche con alcuni europei, americani, insieme a una coalizione hanno vinto. Ma lui quanta gente ha fatto fuori nei campi di concentramento suoi? Tanti. Hitler anche. Ma loro, non so, non mi risulta che abbiano ammazzato qualcuno. Mandavano. 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 Quindi facevano uccidere. So che non è bello dirlo, è spiacevole dire ah tu fai morire. Tante volte io adesso non vado più, una volta giravo di più, mi invitavano anche a cena certi che mangiano la carne, certe persone. Tu fai uccidere? Che faccio uccidere? Tu causi dolore e sofferenza? Io? No, io no. Tu hai causato la morte? No. Ma dove? Ce l'hai nella forchetta? Allora mettevano giù. Ma che mi dici? E ti dico che tu sei il mandante. Il mandante. Il mandante. Ci sono capi di gang criminali, associazioni a delinquere, che personalmente non hanno ammazzato nessuno. Però hanno ordinato ad altri, o minacciandoli o pagandoli o tutte e due, ricattandoli di uccidere. Quindi se tu non vuoi uccidere e non vuoi far uccidere, indovina in quale stanza della casa avviene il crimine, il delitto, la violenza, il sopruso, la strage. In cucina. Bisognerebbe mettere nella porta della cucina pace e non violenza. Amore, pace e non violenza. Bisognerebbe mettere nei frigoriferi. Questo non è un cimitero. frigoriferi. Insomma, uccidere non va bene. Far uccidere peggio. Perché uno fa l'innocente. Tanto era già lì. Sì, ma se tu quella cosa che chiami che è già lì, la carne è morta, non la compri, nessun altro muore. Cioè, se ogni persona che smette di mangiare animali morti, genericamente chiamati carne e pesce, ogni persona... Sì, poi anche questi frutti di mare. Molti usano la parola frutta, frutta di mare. Qualcuno mi ha detto il tono. Ma il tono è un pesce. Agnoto. Ci siamo capiti. Io quello che dico è semplicissimo. Diventa innocente. Salvati. Non essere causa più o meno subconscia di dolore altrui. Tu pensa alla tua salute. Poi, come stanno scoprendo, la carne non fa bene. Allora dicono non più di due volte alla settimana. Io sono cresciuto con l'idea... Io ero vegetariano, per scelta mia, a 15 anni, 14-15 anni più o meno. Dico 14-15 perché essendo nato a dicembre, l'anno che ho deciso non ero 14, però ufficialmente sono nato alla fine dell'anno. Quindi sui 14-15 anni ho deciso di smettere di nutrirmi di animali morti. Ecco, l'invito è arrivato. Auguri. Trasforma la cucina in un centro di buona salute. Ecco. Tutti la cucina in un centro di buona salute. Grazie a tutti.